Parliamo oggi con il professor Giorgio Calabrese, un grandissimo esperto di problemi di alimentazione e di problemi della salute. Senta professore, ma intanto una prima domanda, ma un'alimentazione corretta quanto è importante ovviamente per tutti noi, ma in particolare per uno studente? Cioè uno studente deve prestare particolari attenzioni alla propria alimentazione? Lo studente è come le macchine di Formula 1, quando incominciano il mattino e che si svegliano sanno che se dal lunedì al venerdì devono fare la gara di Formula 1, quindi devono fare rifornimento, mettere i giusti grassi ma non eccessivamente, non caricarsi troppi di proteine. Per cui l'alimentazione in uno studente che utilizza molto il cervello, l'intelletto, la memoria, la capacità dell'elochio, ha bisogno di avere che il sistema nervoso sia molto ben energetico e nel contempo idratato, quindi bisogna bere dei liquidi al mattino, può andare molto bene il latte, il tè, il caffè e contemporaneamente mettere molti carboidrati, specie complesse, la fetta biscottata integrale, la torta fatta dalla mamma, meglio ancora se con pochi grassi e con più farine integrali, molta frutta, succo di frutta, spremuta, frutta fresca e facendo in questo modo il cervello si carica di energia per poi arrivare a quelle tre ore, perché poi c'è l'intervallo e di nuovo lì bisogna rifare in piccolo quello che si fa in colazione in grande e sempre in questo modo fino ad arrivare alle 13, 13, 30 quando finiscono le lezioni, a quel punto poi scatterà, come abbiamo svuotato il cervello di carboidrati, scatterà il concetto del dare la buona pasta, il riso, comunque i carboidrati complessi con verdura e frutta in modo da poter arrivare fino al pomeriggio quando metteremo frutta secca e la sera rimetteremo anche le proteine. Senta professore, nel complesso quanto è importante dal punto di vista del benessere psicofisico dello studente prestare attenzione all'alimentazione e anche magari ad un accurato riposo? Ma veda è fondamentale perché riposo e se vogliamo dire anche sonno e alimentazione sono due facce della stessa moneta perché io ho bisogno di dormire e riposarmi per ricaricare, per svuotare la richiesta di energia perché mi riposo, mi rilasso, i muscoli si rilassano e contemporaneamente poi l'alimentazione che deve riempire di nuovo questa tannica della giusta energia che non è solo carboidrati, sono anche proteine, sono anche grassi nel modo giusto, nella quantità giusta, nella frequenza giusta, per cui ambedue sono fondamentali. Se io dormo poco, brucio, non solo non mi ricarico, ma brucio le poche energie che ho e quando io arrivo al mattino che non ho dormito o non ho dormito bene sono stanco di alzarmi, stanco di stare a letto, ancor di più quando arriverò a scuola prima sarò disattento, non concentrato, addormentato e se mi interroga prendo anche un 2. Certo, senta professore dai dati che abbiamo, che leggiamo molto spesso sui quotidiani, nel web, il problema della obesità soprattutto nell'adolescenza è in aumento, come mai questo secondo lei? Ma intanto facciamo una distinzione, l'obesità e il sovrappeso sono due cose lievemente diverse ma il sovrappeso è la base, il trampolino di lancio per arrivare all'obesità, non prendi subito 40 kg, ne prenderai tre, poi ne riprendi altri due, poi ne riprendi altri tre e dopo un anno o due ti ritrovi 10-15 kg in più ma non te ne sei manco quasi accorto e neanche soprattutto i genitori. È fondamentale il discorso dell'obesità che comporti che cosa? Un sovraccarico digestivo, un sovraccarico del fegato e in questo caso anche un sovraccarico di condizioni di rienergizzazione delle proteine e del cervello e perché noi abbiamo una condizione cerebrale che ha bisogno costantemente di essere rienergizzata, che ha bisogno di calorie date soprattutto da carboidrati ma non solo, ma soprattutto da carboidrati. Se io dormo poco, dormo male, sono stanco e non mi nutro per poter compensare questa carenza di sonno che si traduce in un maggiore utilizzo di zuccheri e anche di riserva, allora a quel punto noi abbiamo un personaggio intelligentissimo che rende come uno che intelligente non è. Senta, probabilmente poi sul sovrappeso influisce anche in modo significativo il movimento, cioè quindi la sedentarietà, è così? Guardi, abbiamo fatto recentemente un convegno allo stadio olimpico di Roma, col CONI, con il gruppo Ambrosetti, un gruppo storico internazionale che organizza dei trial fra grandi scienziati nel mondo, dall'economia alla scuola alla salute e quant'altro. E la prima cosa che abbiamo detto, eravamo una cinquantina di relatori, l'unico editologo ero io, ma tutti gli altri erano tutti che si occupavano di tante cose del mondo della scuola anche, dal bambino dell'asilo nido fino all'università. E la prima cosa che hanno e abbiamo detto era il movimento, un movimento di tipo aerobico, all'inizio perché ti permette di stare molto bene, di non stressarti troppo, sto parlando della grande camminata, sto parlando dei giochi che sono aerobici che non è, l'aerobico è la bicicletta, il correre, non è la 100 metri che in 7-10 secondi, 20 secondi finisce, cioè ci vuole un certo movimento, il nuoto fantastico, anche lo scivenissimo, ecco tutte queste cose sono fondamentali perché danno massa muscolare, tono al muscolo, grande resistenza alla parte muscolare nervosa e quindi anche al cervello e il cervello più vede attività fisica, meno si stressa e meno si stressa più rende, ecco perché è molto importante il movimento. Quindi riassumendo, un'alimentazione corretta, movimento nel modo giusto e riposo. E poi idratazione, aggiungerei bisogna bere i due litri al giorno di acqua perché man mano che ci impegniamo a scuola, lo stress, la tensione, mi interrogo o non mi interrogo, faccio il compito in classe, lo so fare o non lo so fare, è un compito di un tema lungo, è un compito di matematica di latino, di greco lungo, ecco tutto questo ti disidrata proprio per quanto riguarda lo stress, allora bisogna reintegrare la scuola, non bisogna portare cibo grande se non per l'intervallo, bisogna portare tanti liquidi perché i liquidi ti danno la possibilità di avere delle membrane molto elastiche e questo permette di essere più intelligente. Quindi andare sempre in giro con la borraccia di acqua. Questo è fondamentale, è proprio fondamentale, lo facciamo poco ma è importantissimo. Senta professore, ancora una cosa, ma la mitica dieta mediterranea, per cui il nostro paese, l'Italia, è rinomata in tutto il mondo, è ancora una dieta, come dire, attuale da utilizzare, oppure ci sono diete più moderne? Diete più moderne ci sono ma non salutiste, la dieta antica che è la dieta mediterranea è la più salutista però tutti ce la copiano nel mondo, noi è come i romani che hanno il Colosseo, molti romani non sono mai entrati al Colosseo, tanto ce l'hanno là, capito? Noi abbiamo la dieta, ce l'abbiamo là e poi c'è la gente che viene da fuori per imparare la nostra dieta mediterranea o per vedere il Colosseo. Ecco è fondamentale questo discorso, noi abbiamo bisogno di avere tutta una visione della nostra vita, con la dieta mediterranea noi abbiamo, se non abbiamo il maggior bene, perché molto spesso noi la dieta mediterranea l'abbiamo abbandonata, sicuramente abbiamo il mio normale, ne faccio un esempio così banale, lei pensi, noi diciamo, parliamo di verdure, di frutta, di cinque porzioni al giorno, dei legumi che dobbiamo mangiare, quant'altro, pensi quanto ne mangiano i cinesi, gli orientali di questo, eppure vivono dieci anni in meno di noi, perché? Perché gli manca il complesso, il tutto, non è soltanto una cosa, mangiare più verdura o più frutta che ti fa stare solo bene, perché ci vogliono anche le proteine animali, infatti ecco perché io non sono un vegano e rispetto i vegetariani perché comunque i latte, latticini e le uova le mangiano, qualcuno mangia anche i pesci. Ecco, se noi mettiamo tutte le componenti nutritive, energetiche e non all'interno del nostro organismo, noi abbiamo un corpo non solo più sano, più longevo, perché veda, io ero un allievo della Rita Levi Montalcini e la mia maestra, lei mi chiamava ragazzino, io la chiamavo maestra, un giorno io dissi una frase che poi lei ribadì, però con la sua onestà intellettuale, disse che era mia questa frase, è il mio ragazzino che mi ha detto questa frase, veda maestra, noi non dobbiamo aggiungere giorni alla vita, ma dobbiamo aggiungere vita ai giorni, e questo è un discorso che lei disse, guarda sei magnifico perché in effetti hai capito fino in fondo la lezione della vita che ti ho dato, ed è così, noi dobbiamo aggiungere tanta vita ai giorni, perché vivere con tanti giorni senza la vita, se io sono un cristiano, sono contro l'eutanasia, quindi mai farei morire un paziente, però capisco che se sei allettato da dieci anni con la barella, con la padella, il catetere, l'abbadante, e sei sul letto, sei vegetativo, diventa duro per sé e per gli altri che lo accudiscono, quindi ragazzi per favore, cerchiamo di essere veramente molto mediterranei, perché nella mediterranea età voi non lo sapete, forse manco me ne accorgete, forse neanche vi interessa, perché è normale vedere il nonno che ha 90 anni, ma guardate che non è così, se andate nel mondo orientale, il nonno ha 65 anni, poi non c'è più il nonno. Senta professore, l'ultimissima domanda, ma lei lo sa che di tanto in tanto sbuca fuori nel nostro paese un parlamentare, un deputato, un senatore che parla di introdurre la cultura del vino nei programmi, nei curricoli scolastici. Lei che cosa ne pensa? Che idea si fa? Le dico una cosa che forse pochi sapete, perché fino in fondo non ne abbiamo molto parlato. Esiste nella passata legislatura un disegno di legge, a prima firma Giorgio Calabrese, che parla di educazione alimentare in toto, in cui c'è all'interno anche quella del vino, non solo il vino, perché se noi facciamo la cultura solo del vino è ottimo ma è limitativo. Noi dobbiamo fare la cultura della dieta mediterranea, dell'alimentazione, bambino di due anni che va all'asilo nido, poi va alla scuola materna e va avanti così, mentre io vedo la nipotina, mia nipotina Carlotta, che è a Roma, che ha tre anni, lei tutti i giorni le insegnano cos'è la mela, la pera, il legume, la fanno pasticciare, le fanno impastare la pasta. Ecco, questo ti fa dare del tu da parte del bambino, della bambina al cibo e questo ti educa. Poi arrivi a casa e incominci a dire a mamma, ma no mamma, non voglio questo, voglio quello che deve essere più scura, perché è integrale, che mi aiuta di più, vado in bagno più facilmente. Queste cose spesso i genitori che li sanno, le dimentichano e sono i figli, i bambini, che a scuola con l'educazione alimentare ritornano a insegnare ai genitori ciò che loro sanno ma che hanno dimenticato. Ultimissima questione, lei che notizie ha, cosa ne sa, sul funzionamento delle mense scolastiche nel nostro paese? Secondo lei funzionano bene? Sì, io direi questo. Guardi, io ho gestito nei tempi del sindaco Castellani e Chiamparino con la Paola Pozzi, assessore delle mense scolastiche del comune di Torino, 55 mila bambini per 5 anni hanno mangiato secondo i miei dettami. Poi hanno continuato, anche se poi io non c'ero più perché avevo altri impegni, non ho potuto più seguirli. E devo dirle che io ho due figli che ora hanno 40 anni circa e sono due professionisti e loro andavano a scuola e mia moglie, quando c'era il momento della mense, li andava a prendere e li portava a casa per farli mangiare bene perché a scuola si mangiava, posso dire una frase che da giovane, visto che si mangiavano schifo. Quando ci siamo messi, quando lo Stato ha voluto, perché lo Stato italiano c'è, ha voluto invece che le cose cambiassero e soprattutto quando incominciarono arrivare anche tanti migranti che non avevano i soldi, allora questi bambini, compresi i miei, poi sono andati a scuola statale, loro mangiavano in mense, i miei avrebbero potuto permetterselo come tanti altri di andare a casa senza nessun problema, altri se andavano a casa non trovavano nulla e invece là c'era il cibo giusto, nella quantità giusta, nella qualità primaria e quant'altro. Da allora, io le sto parlando di 25 anni fa, le mense sono sempre più migliorate. Una cosa mi preoccupa, glielo dico con molto onestà, hanno imposto prima a Milano, ora lo vuoi fare a Torino, le mense vegane, per i bambini proprio non ci sto. Io critico già gli adulti, immagino i bambini, non va bene, non va bene, però devo dire nel senso intellettuale ci sta anche quello, nel senso che c'è la mense scolastica è diventata così importante che ha ripreso le abitudini che erano a casa, poi qualcuno anche a casa bisogna aggiustarla, però è questa è una di quelle cose che bisogna aggiustare a scuola, però io sono convintissimo che la mense scolastica oggi dia molte più garanzie di igiene, di sicurezza, di salutismo e di palatabilità più di quello che possiamo trovare a casa soprattutto nei momenti di crisi economica, quando a casa al massimo hai un piatto di spaghetti e basta, è una volta, due volte, tre volte, quattro volte, non puoi solo mettere la benzina nella macchina, devi mettere l'olio dei freni, l'olio del motore, l'acqua del radiatore, cioè devi fare anche altre cose, se metti solo la benzina a un certo punto la macchina si ferma. Bene, ringraziamo davvero di cuore il professor Giorgio Calabrese per questa bella lezione, in pratica che ci ha fatto, di educazione alimentare, quindi grazie davvero professore. Buona vita, anche ai ragazzi soprattutto.